... Hanno entrambe vinto all'esordio e vogliono proseguire la propria marcia in testa alla classifica. Stella e Realfondi di fronte fra loro nella seconda giornata del campionato di calcio a 5 Pontino. Una partita che potrebbe dare a una delle due squadre quella fiducia necessaria per disputare, chissà, magari fino alla fine un campionato di vertice. Dal campo sportivo del Don Luca un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. E dunque adesso ci tuffiamo per vivere questa gara. Ancora il Fondi con Bolla, avanza Bolla, 1-2 perfetto e poi Bolla che riesce a castigare il portiere Pappa. Arriva il gol del vantaggio. Sulla sinistra Mattarelli, esplode il destro, pallone che termina sul fondo. Mattarelli smissa sulla destra per Banin. Poi il tiro in porta, insidioso. Cristian Pardo al centro per Banin. Allarga a destra il sinistro che impegna. Alla fine entra addirittura in porta il tiro da parte di Mattarelli. Battuto subito il corner nello stretto. Poi è arrivato il destro, violento, da parte di Curcio. All'interno della prima metà campo non mette pressione ai giocatori dello Stella che possono così confezionare questa ottima chance. Calcio d'angolo che sta per essere battuto adesso da Foggia. Prova ad armare il destro, poi ci ripensa. E il tiro e il gol da parte dello Stella con il numero 20. Banin che è stato davvero molto lesto, molto abile. Pallone che non arriva a destinazione per il proprio compagno. Anticipo secco da parte di Simeone. Poi il tiro in porta, improvviso di Mattarelli. Più tranquillità. Tanto la sponda da parte di Foggia. Il destro colpo sicuro che è stato scoccato da Uccellini. Nessuna fretta adesso per lo Stella che è avanti di un gol. Attenzione a Cristian Pardo. Adesso Foggia, finta di Foggia. Se ne va elegantemente sulla sinistra. Superità numerica adesso per la formazione dello Stella. Bella azione. E poi il palo colpito a colpo sicuro. Gli viene nuovamente trasmesso il pallone. Imbucata per Bolla. La conclusione attento, sicuro questa volta Marco Pappa. Don Giovanni che si guarda intorno e poi cede nuovamente il pallone. Per il proprio compagno di squadra che riesce a partorire un ottimo cross. Bravissimo Bolla che ha servito al centro. Curcio che ha messo dentro il gol del pareggio. 2-2. Adesso Cristian Pardo che cerca di imbucare questo pallone centralmente. Attenzione a Bolla. Se ne va tutto solo Bolla. Esce il portiere. Marco Pappa e compie un'autentica prudezza dall'altra parte. Può ripartire lo Stella. E l'altro portiere ovvero sia Fusco. Non è da meno. Adesso le due squadre sembrano piuttosto allungate. E c'è ancora Curcio che riesce con questo piatto destro a trafiggere inesorabilmente Pappa. Foggia che prova a andarsene centralmente. Poi ancora il destro. Interessante per Bolla che sradica a Cristian Pardo. 2-1. E non segna incredibilmente Capo Tosto. Ovvero sia Capo Tosto che ha sfiorato nuovamente il gol. Altra conclusione. Da parte di Curcio. E c'è proprio Mattarelli pronto a battere questo calcio di punizione. Tre uomini in barriera. Rincorsa di Mattarelli. Tira il gol. Spettacolare realizzazione. Una gemma da parte di Mattarelli. Attenzione. È arrivato il gol del 4-3 incredibile da parte del Real Fondi che segna con il proprio capitano. Mattarelli può accendersi da un momento all'altro. Adesso c'è Toselli. Toselli il destro. È una sentenza. Questo destro da parte di Toselli. Nel secondo tempo il Fondi è stata più propositiva. Se non altro. Attenzione intanto a questo sinistro da parte di Foggia. Di gara che guarda il cronometro e fischia la fine appunto del match. Con il risultato di 4-4 fra Stella e Real Fondi. Si conclude una partita davvero molto emozionante. Molto divertente. Due squadre che salgono a 4 punti in classifica. E con questo risultato dunque chiudiamo il collegamento. Ed è tutto. Da Enrico Pasquale Coluzzi. Un saluto e un ringraziamento anche da parte di Matteo Rena che ha operato le riprese televisive. Vi diamo appuntamento ai prossimi impegni con Mondo Futsal.